Presidente? Presidente? Gerry Cala aveva la libidina Paolo Brozzi aveva Cristo Fabio Faccio aveva Paolo Fox Mara De Nier si toccava le poppe Gerry Scott lo dava le lettere Signorini Valeria Marini Lino pastiche di quanta erigний mante Cochi erenato, nemici dello Stato Paolo Villazio portava la donna Paolo Villazio portava la donna Come una signora, come una signora Baby Signorini Valeria Marini Lino pastiche di quanta erigний mante Cochi erenato, nemici dello Stato Paolo Villazio portava la donna Paolo Villazzo portava la donna come una signora, come una signora Gerry Cala ha perso la libidine Paolo Brosio ha perso Cristo, Fabio Fazio ha perso Paolo Fox Maravegner non ha più quelle poppe Gerry Scotti si è mangiato le lettere Signorini, Valeria Mari, Lino Batu che riguardava e viveva Cocchi e Renato, nemici dello Stato, Paolo Villazzo portava la donna Paolo Villazzo portava la donna come una signora, come una signora Gerry Gerry Cala ha perso la libidine Signorini, Valeria Mari, Lino Batu che riguardava e viveva Cocchi e Renato, nemici dello Stato, Paolo Villazzo portava la donna Paolo Villazzo portava la donna come una signora, come una signora E Pippo Paudo, scontri allo stadio I Vazzani, i Vizzani, i Vizzani, i Vizzani, i Vizzani Figa! Tu non sei in grado di svolgere il suo lavoro Cocchi e Renato, nemici dello Stato, Paolo Villazzo portava la donna Paolo Villazzo portava la donna come una signora, come una signora Signorini, Valeria Mari, Lino Batu che riguardava e viveva Cocchi e Renato, nemici dello Stato, Paolo Villazzo portava la donna Paolo Villazzo portava la donna come una signora, come una signora Paolo Villazzo portava la donna come una signora